Tutto pronto, si aprono le gabbie del Parioli Shadwell 2020 Buona la partenza di Castellazzo insieme all'Air Noir che poi lascia strada proprio allo stesso Grigio che va con la sua giubba rossa davanti nei confronti di Badrama altro che ha accettato la partenza e si porta subito ai suoi fianchi in terza si sistema l'Air Noir in quarta il favorito Rubaiat che ha in schiena Cima Emergency e poi un quintetto a chiudere in particolare il Ranger in Paradise che ha in schiena Cacciante, Security Reason, Tanking e Sicomoro che chiude il gruppo l'andatura è abbastanza svelta, Castellazzo in vantaggio nei confronti di Badam in terza posizione all'interno c'è l'Air Noir a precedere il favorito Rubaiat in quinta Ranger in Paradise a precedere Cima Emergency poi Tanking con ancora Cacciante, Security Reason e Sicomoro siamo all'imbocco della dirittura d'arrivo, Castellazzo è sempre davanti nei confronti di Badam che ne ha preso la schiena, poi l'Air Noir che li segue terza corsia per il favorito Rubaiat che ha in schiena Cima Emergency più all'interno, Ranger in Paradise e poi Security Reason Sicomoro che va per corsia ancora più interne poi Cacciante e ancora Tanking, intersezione delle piste superate che con gli ultimi 600 metri Rubaiat è il primo a rompere gli indugi dando la prima scossa alla corsa, Rubaiat adesso è davanti attaccato all'interno da Ailer Noir ci prova Cima Emergency, ci prova ancora Castellazzo che rimane in quota Ranger in Paradise che ha perso l'abbrivio in questa fase gli ultimi 300 metri, Rubaiat è davanti, attaccato al suo esterno da Cima Emergency Cima Emergency che è cattivo dall'attacco, proprio lo stesso Rubaiat questi due che si staccano in lotta Cima Emergency ha messo mezza lunghezza davanti che poi diventa uno Cima Emergency che vince il Parioli 2020 nei confronti di Rubaiat per il terzo Sicomoro Vince Cima Emergency Geralmo se in sella, il training della Grizzetti Galoppo i colori sono quelli della scuderia Cocktail Maiden ha due anni, pur secondo nel gran criterium in questo 2020 si è tolto la qualifica di Maiden e ha vinto anche il premio Parioli 4 al primo posto, vince Cima Emergency nei confronti di Rubaiat e per il terzo il 9 Sicomoro 4-7-9 indegnamente dal punto di vista numerico la quota Icima Emergency era in discesa da 11 a 9 pacca sul collo da parte di Magic Gloves che sigla così il Parioli Shadwell 2020 dalla nostra postazione è tutto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti